Musica Amici amici di Unvolum Wright, buongiorno a tutti, siamo qui oggi alla scuola Holden con Simone Piani, educatore e collaboratore dell'associazione Verba e poi Stefano Castello, educatore e operatore di spazio reale, buongiorno. Com'è andato il convegno? Il convegno è andato bene, sono contento di aver anche visto la partecipazione sia dei ragazzi sia degli altri operatori che hanno partecipato e quindi sicuramente l'aspetto interattivo è stato positivo sia per confrontarsi sia per dare risposta alle domande che erano nella mente sia dei giovani che delle persone più grandi, adulte che quindi lavorano per i giovani. Sì, anche io sono d'accordo, è stato un bel momento anche di confronto direi, in cui si sono date sfaccettature dell'autonomia molto varie dalla disabilità al tema migranti, al tema mobilità, al tema del conflitto, insomma c'è stata una panoramica, grazie anche al talk show che c'è stato al confronto con il pubblico molto partecipe, devo dire, che secondo me ha reso positiva e produttiva la mattinata. Grazie. Vorrei chiedervi, per aiutare le tipologie di persone come persone disabili, minori, stranieri, nell'autonomia che comportamenti si dovrebbe tenere? Allora, secondo me coloro che si occupano di supportare i minori, persone straniere, persone con disabilità, nei loro percorsi di autonomia innanzitutto è necessario che tarino, che venga tarata, ci sia una taratura delle aspettative che hanno rispetto alle loro possibilità di autonomia. Questa mattina si è detto che non esiste un'autonomia, il significato di autonomia è sempre quello, ma esistono tante autonomie, le autonomie sono individuali e personali, quindi comprendere il percorso di vita e i desideri personali degli individui è sicuramente qualcosa di fondamentale. Dopodiché sappiamo che l'autonomia è qualcosa di costruito socialmente, il concetto di autonomia è costruito socialmente, per cui forse il lavoro da fare è anche sul concetto stesso di autonomia, che cosa vuol dire l'autonomia, che cosa vuol dire essere da soli con l'aiuto di qualcun altro, in relazione, eccetera. Per cui secondo me è un lavoro di consapevolezza innanzitutto sull'adulto e anche poi sulle persone che vogliono intraprendere il percorso di autonomia è necessario. Rispetto a una molteplicità anche di tipologie, di persone che si possono incontrare, mi viene in mente che la prima cosa importante è dar loro fiducia, quindi sì un'analisi dei bisogni individuali, ma appunto che questi vengano supportati, che non ci si vada mai a sostituire anche all'altro, ma che invece ci si ponga un po' come un'impalcatura che via via si può staccare e rendere la persona sempre e comunque interdipendente, anche nella sua autonomia, perché viviamo in un contesto sociale fatto di tante persone e siamo sempre in relazione con l'altro, con noi stessi e con l'ambiente anche, quindi è importante secondo me valorizzare anche questo aspetto. Grazie di essere stato con noi, buongiorno a tutti, ciao! Grazie a tutti!